Benvenuti sul mio canale, sono Gennaro Ricchio. Questo video è una guida alla registrazione dell'adesione alla vaccinazione anti-covid-19 dei pazienti fragili, dei soggetti fragili, sulla piattaforma Sinfonia e Covid adesione vaccinazione. Come potete sostenere questo canale YouTube? Iscrivendovi al canale, attivando le notifiche per essere informati sulle pubblicazioni di nuovi video, condividere il video, scrivere dei commenti, se avete trovato interessante il contenuto del video mettere mi piace. Eventuali marchi di terzi citati appartengono ai rispettivi legittimi proprietari, sotto nella descrizione del video trovate il link per scaricare il file PDF di questa presentazione. In questo video analizziamo tre cose. La normativa regione Campania per quanto riguarda l'adesione alla vaccinazione anti-covid-19 dei soggetti fragili, l'attivazione account sul portale dell'account del medico di medicina generale sul portale Sinfonia sistema informativo, e poi terzo la registrazione, adesione e vaccinazione pazienti fragili. Dal portale sanità digitale, nella pagina i covid-19 sinfonia, trovate il link per l'accesso al portale adesione e vaccinazione. Le credenziali per l'accesso al portale adesione e vaccinazione sono le stesse del portale sistema informativo Sanità Campania. Andiamo a vedere dal portale sanità digitale, la pagina web e covid-19 sinfonia, scorrendo verso il basso trovate il link per il portale adesione e vaccinazione. Più in basso trovate il link per le credenziali per l'accesso al sistema informativo Sanità Campania. Attenzione, non confondere, le credenziali per il portale sinfonia sistema informativo Sanità Campania sono diverse dalle credenziali per l'accesso al portale e covid-sinfonia, piattaforma per la sorveglianza attiva dei cittadini. In questo portale, ricordo che il medico, ci sono dei video a riguardo sul mio canale, in questo portale il medico può controllare l'esito dei tamponi auricolari che il paziente ha fatto e richiederne i nuovi. Per quanto riguarda la regione Campania, nel comunicato numero 31 del 15 marzo rende disponibile l'elenco delle categorie di pazienti fragili indicate dal Ministero per la prima fase. Ecco, qui trovate l'elenco con le varie patologie. Di fianco riporto i codici CD9 del nomenclatore CD9-CM attualmente in vigore. Invece, il 16 marzo 2021 è stato pubblicato dalla regione un aggiornamento del piano vaccinale. In basso, cliccando su piano regionale, potete scaricare il nuovo piano regionale dove comunque vengono riportate la stessa classificazione delle patologie che identificano i pazienti fragili. Allora, quindi veniamo adesso all'attivazione dell'account sul portale Sinfonia Sistema Informativo. Quindi, per quei medici che in passato hanno attivato l'accesso a questo portale e che possiedono le credenziali, bisogna inserire l'username, che è il codice fiscale, la password e fare clic su Enter. Se invece il medico ha dimenticato la password, bisogna fare clic su Recupero Password. Se ha dimenticato la password o se non ricorda di aver attivato o meno le credenziali di questo portale, in ogni caso bisogna fare Recupero Password. Facendo clic su Recupero Password compare la maschera di Reset Password, inserire l'username, che è il codice fiscale del medico, e fare clic su Conferma. A volte fatto clic su Conferma ci sono due possibilità. Se il medico è attivo, l'account del medico è presente nell'archivio del portale Sinfonia Sistema Informativo Sanità Campania, riceverà un'email con una password temporanea. Altrimenti riceve questo messaggio. Impossibile procedere con l'operazione richiesta, in quanto l'account non è presente in archivio. Se riceve questo messaggio, bisogna inviare un'email, che vedremo dopo, all'assistenza soresa per richiedere l'attivazione delle credenziali. Proseguiamo. Quindi nel caso in cui l'account del medico è attivo sull'archivio del portale Sinfonia Sistema Informativo Sanità Campania e riceve un'email, gentile dottore, la password temporanea per accedere al sistema Sinfonia è questa. Digitate questa password nella casella password, username, il codice fiscale, e poi fare clic su Entra. Dopo che si è fatto clic su Entra, compare questa maschera di benvenuto, dove dice ecco le aree applicative alle quali puoi accedere. La prima cosa importante, essendo il primo accesso con una password temporanea, bisogna fare clic su Cambia Password. Dopo aver fatto clic su Cambia Password, compare il profilo del medico, va inserito nella voce vecchia password, la password che è arrivata nell'email, sempre la password che è arrivata nell'email, digitare la nuova password, verificare l'email del medico che sia quella corretta e poi fare clic su Conferma. Una volta fatto clic su Conferma, compare la maschera del messaggio di modifica profilo avvenuto con successo, vi invita a controllare l'email di verifica, in sostanza un'email di verifica che abbiate inserito correttamente la vostra email, perché poi l'email viene usata in futuro per un'eventuale procedura di ripristina o di recupero della password. Se non hai ricevuto l'email, rientra nella funzionalità, quindi prima di uscire dal profilo, fare modifica profilo e verificare la correttezza dell'indirizzo inserito. Una volta finito, fare clic su Continua. Allora, quindi veniamo al caso in cui si riceve il messaggio di impossibile procedere con le operazioni richieste in quanto l'account non è presente in archivio. Allora, in questo caso il medico deve inviare un'email a hdassistenza hd underscore trattino basso assistenza mmgpls chiocciolasoresa.it dove nell'oggetto deve specificare chiaramente richiesta attivazione account su portale sinfonia sistema informativo sanità campania e nel testo dell'email, oltre alla richiesta, riportare il nominativo del medico, il codice regionale, l'email è importante, il codice fiscale, il numero di cellulare e un indirizzo. Una volta, dopo aver inviato queste mail, riceverete dal portale sinfonia sistema informativo un'email uguale a queste che abbiamo visto precedentemente e la procedura di attivazione è la stessa poi del reset, recupero, recupero, password. È sempre questa procedura. Il medico di medicina generale ha ricevuto in questi giorni una mini guida per quanto riguarda la registrazione delle adesioni alla campagna vaccinale per persone estremamente vulnerabili. In questo video vediamo un po' la stessa cosa in sostanza elaborata un po' in modo diverso e come viene effettuata poi una registrazione da parte del medico dei pazienti fragili sul portale sinfonia sistema informativo. Quindi bisogna accedere a questo portale sinfonia covid adesione vaccinazione e inserire le credenziali, quindi abbiamo detto codice fiscale password le stesse del sistema sinfonia sistema informativo sanità campagna dopo aver inserito le credenziali fare clic su accedi. Questa è la maschera di benvenuto di adesione vaccinazione bisogna inserire il codice fiscale del paziente tutte le voci con l'asterisco sono obbligatorie selezionare la tipologia beneficiare in questo caso selezionare fragili poi fare clic su avanti dopo aver fatto clic su avanti compare la maschera di richiesta di adesione per il nome del paziente bisogna selezionare la categoria di rischio quindi soggetto vulnerabile per patologia le condizioni di rischio quindi la condizione di rischio la patologia l'area patologia le cose importanti il medico prima di iniziare ad inserire e a registrare la lesione del paziente sul portale deve assicurarsi di possedere il numero di cellulare e le mail del paziente perché sono campi obbligatori e su questi poi contatti verrà poi contattato il paziente per la confucazione nel centro vaccinale bisogna scaricare il consenso e poi fare clic su compila anamnesi dopo aver fatto clic su compila anamnesi bisogna cliccare poi anche su ho letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e fare clic su compila anamnesi dopo aver cliccato su compila anamnesi compare l'elenco dell'anamnesi tutte le voci che vanno a comporre l'anamnesi ad esempio attualmente malato bisogna indicare sì o no scorrere verso il basso rispondere a tutte le domande sono con asterisco sono domande in cui già trovate una risposta preimpostata se è diverso ovviamente la modificate scorrere verso il basso inserire tutte le risposte e poi fare clic su salva una volta fatto clic su salva scaricare l'anamnesi e poi fare clic su completa adesione dopo aver fatto clic su completa adesione vi da il messaggio di adesione effettuata con successo e poi se si desidera si può fare clic su nuova adesione per registrare un nuovo paziente fragile io vi ringrazio per l'attenzione iscrivetevi al canale e attivate le notifiche e vi ringrazio per le notifiche e vi ringrazio per le notifiche